Ragazzi, ecco quattro cose che non sapete su pasta in corso. Uno, vendiamo 500 piatti di pasta al giorno. Due, tutta la pasta che vendiamo la produciamo noi e la possiamo anche vendere cruda per cucinartela a casa. Tre, siamo certificati AIC, abbiamo una cucina a parte per il senza glutine. Quattro, abbiamo 23 tipi di pasta, tra cui 17 è gluten free.